venga va eccolo bello anche mi sa vai foto ma che bello che è bene la proveremo come un po' per adesso ragazzi via guarda via eccolo eccolo tanta roba ma che bello anche questo è bello super mangiata ricetta guarda come il pinna guardalo tanta roba bello eccolo è uscito adesso lo slimino subito bello bello ma come fanno i miei cammini yes yes i miei cammini oh i miei cammini bello eccolo è bello questo qua questo è bello i miei cammini i miei cammini è uscito pot water oh i miei cammini è uscito guardalo lì il persico trota su jointed anche con i boccolini su jointed attenzione adesso vediamo di slumarlo e di fare un rilascio decente popper oh la te l'ho te l'ho che te tutta la roba nella nostra cava privata ragazzi bella sua figa è un bel 400 grammi ce l'hai? foto foto e viajino e viajino 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 Grazie a tutti.